ciao a tutte bentornate sul mio canale oggi vi propongo la realizzazione della falabella molte di voi mi avete chiesto spesso di poter creare un tutorial per questo modello ho deciso di realizzarla in formato mini e comunque durante la spiegazione vi spiegherò come poterla realizzare anche in diverse misure il punto che utilizzato è molto semplice il punto basso per cui anche le meno esperte si possono cimentare nella realizzazione di questo modello per cui iniziamo subito la spiegazione per la mini falabella non occorreranno tantissime cose per cui magari a casa vi trovate già l'occorrente infatti circa 250 grammi 270 non di più di cordino swan black io ho scelto la tonalità dell'illa e circa due metri e mezzo di catena sottile che poi appunto vedremo come contornarla tutta attorno alla borsa l'uncinetto di lavorazione è il tre e mezzo per cui ci possiamo armare di tutto e iniziare il tutorial iniziamo realizzando 15 catenelle e torniamo indietro con dei punti bassi e questo sarà il nostro primo giro per cui saranno in totale quindi 14 maglie ovviamente per chi volesse realizzare una falabella più grande quindi non mini dovrà aumentare quindi partendo dall'inizio quindi dovrà fare più catenelle per cui questo è il primo giro arriviamo alla fine e così poi dal secondo giro vi farò vedere come creare gli aumenti siamo quasi arrivati ed ecco altri due punti e le nostre 14 maglie sono pronte ed ecco l'ultimo punto ed ecco qua come al solito facciamo una catenella voltiamo il lavoro è solo nel primo punto andiamo a creare il primo aumento per cui realizziamo due punti bassi nella stessa maglia e poi invece nei punti seguenti ne faremo uno quindi questo è abbastanza semplice arriviamo qui e vi faccio vedere appunto cosa fare nell'ultimo punto per creare appunto il secondo aumento arrivati alla fine del giro quindi nell'ultimo punto andiamo a creare anziché un solo punto basso ne creiamo due per cui da 14 alla fine di questo giro ci dobbiamo ritrovare con 16 maglie fatto questo quindi catenella voltiamo il lavoro e invece in questo giro ne faremo non faremo aumenti ma faremo semplicemente un giro di ritorno per cui andiamo a creare 16 maglie basse perché appunto gli aumenti saranno effettuati un giro sì e un giro no per cui ci rivediamo alla fine del giro per farvi vedere come procedere con gli aumenti completato il giro catenella e ricominciamo con i giri con il giro degli aumenti per cui nel primo punto doppio punto passo e in quelli seguenti uno solo stessa cosa alla fine del giro faremo due punti bassi quindi il secondo aumento è il giro di ritorno non faremo aumenti noi siamo partiti da 14 maglie dobbiamo arrivare ad ottenerne 24 per cui arriviamo al punto di avere 24 maglie e ci rivediamo per vedere come proseguire il lavoro abbiamo completato quindi la prima parte la parte con gli aumenti quindi siamo arrivati a 24 maglie adesso dobbiamo creare il nostro corpo borsa dove non ci saranno più aumenti per cui andiamo a creare delle righe di andate ritorno a punto basso quindi finito questo quindi catenella voltiamo il lavoro e andiamo come dicevo prima senza creare più aumenti facciamo quindi creiamo il corpo della borsa per cui arriviamo a circa 30 centimetri perché dobbiamo creare sia il davanti che il dietro e il laterale quindi più o meno 30 centimetri e ci rivediamo per poi andare a fare la parte che chiude quindi dove andremo a creare delle diminuzioni terminato il corpo borsa adesso noi prendiamo le misure e ci assicuriamo che il pannello frontale con il pannello sul retro siano della stessa misura allora vi avevo detto che doveva misurare questa parte qui diciamo creare dei punti bassi di andate ritorno retti di circa 30 centimetri e più o meno ci siamo poi ho anche delimitato la parte del laterale che poi dobbiamo andare a creare e a questo punto facciamo in modo di misuriamo se da questo punto a questo punto e da questo a questo abbiamo la stessa misura per cui ci andiamo ad accertare e vediamo che la misura è la stessa sono gli stessi numeri di giro però ci dobbiamo comunque assicurare che il tutto vada sia sia corretto adesso dobbiamo ultimare la borsa e creare i giri di diminuzione per poter arrivare da 24 maglie a 14 maglie così come siamo partiti da questa parte che ce n'avevamo 14 per cui al solito fine giro catenella voltiamo il lavoro e adesso noi anziché entrare nel primo punto disponibile lo saltiamo e andiamo direttamente nel secondo ed ecco che già la prima diminuzione è stata fatta quindi procediamo su tutte le maglie disponibili e andiamo avanti fino alla fine del giro ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come realizzare l'altra diminuzione a fine giro arrivata a fine giro cosa facciamo abbiamo le ultime due maglie e facciamo così entriamo nella penultima prendiamo il filo ma non lo chiudiamo entriamo anche nell'ultima maglia prendiamo il filo e chiudiamo tutte e due insieme e abbiamo creata l'altra diminuzione a fine giro catenella voltiamo il lavoro e come abbiamo fatto qui un giro dove aumentavamo e un giro invece dove andavamo facevamo le nostre maglie senza aumenti e senza nulla facciamo la stessa cosa anche da questa parte quindi su tutte le maglie disponibili andiamo a creare i nostri punti passi quindi esattamente dobbiamo fare il percorso inverso che abbiamo fatto all'inizio ci rivediamo a fine giro vi faccio vedere comunque un altro passaggio per creare diminuzioni a fine e inizio giro eccoci arrivati a fine giro catenella voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo andare a fare il giro dove andiamo a creare ancora diminuzioni quindi non lavoriamo il primo lo saltiamo andiamo direttamente sul secondo e facciamo esattamente quello che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato le diminuzioni nel primo giro quindi continuiamo stessa cosa qui entriamo sul primo non lo chiudiamo e lo chiudiamo insieme all'altro e creiamo l'altra diminuzione il prossimo giro ancora sarà senza diminuzioni e arriveremo a fine lavoro con 14 maglie per cui ci rivediamo non appena anche questa parte della lavorazione è completa completato il corpo borsa quindi tutta la parte superiore sono arrivata a 14 maglie esattamente come avevo fatto da questa parte all'inizio poi ho creato il giro di contorno sempre a punto basso l'ho ripiegata e ho cominciato a creare il primo laterale questo laterale misurerà esattamente 14 centimetri come la parte appunto che avevamo visto poc'anzi quando vi ho spiegato insomma tutte le varie misure io ho creato non ve lo faccio vedere perché un che è molto semplice questo passaggio del laterale ho iniziato con 5 catenelle sono tornati indietro a punto basso e mi sono creata questa striscia appunto di 14 centimetri compreso il contorno che ho sempre creato appunto basso fatto questo adesso vi spiego come creare la cucitura e poi andremo a fare anche l'altro quindi io mi sono già agganciata per rendere anche più semplice l'applicazione della catena farò questo tipo di cucitura che già comunque conoscete per altri tutorial io in sostanza vado a prendere entrambe le asole quindi del contorno del punto basso le due asole e quelle che mi stanno di fronte stringo per bene e poi vado da questa parte quindi al contrario e le prendo tutte e quattro quindi veramente semplicissimo la stessa cosa nei punti successivi e via via finché non finiamo tutto il perimetro quindi questa cucitura va fatta tutta attorno fino a questo punto la stessa cosa quando andiamo a creare l'altro laterale lo cuciamo nella stessa maniera e ci rivediamo per spiegare come andare a uscire tutta la catena attorno al perimetro della borsa abbiamo completato tutto il corpo borsa con tutte le varie cuciture ecco qua adesso io vedete già mi sono agganciata dobbiamo uscire tutta la catena intorno al corpo della borsa quindi al profilo laterale allora cosa facciamo io mi sono già agganciata da questa parte e praticamente andrò ad eseguire delle cuciture tutto intorno alle asole che si sono create del contorno del punto basso e cioè io adesso cosa faccio mi sono agganciata qui faccio in questa maniera così mi aggancio anche con la catena vedete e poi proseguo vado a vedere qual è il punto che coincide diciamo con l'apertura di quest'altra maglia quindi con un po di mi vado a cercare ecco facciamo così mi inserisco prendo pure la catena e vado avanti me la vado sistemando per bene vado da questa parte vedete io prendo comunque l'asola esterna e continuo me la vado sistemando prendo questo punto basso e tiro ecco qua continuo proseguo sempre nello stesso modo poi ovviamente voi se avete un altro metodo preferite cucirle in un altro modo voi siete liberissime io mi trovo molto bene in questa maniera perché così viene ben ancorata alla borsa proseguo e continuo quindi la mia cucitura ed eccola qua vedete quindi io adesso cosa faccio continuo lo faccio lo cucio fino a qui ci rivediamo a questo punto per farvi vedere appunto cosa faccio quante maglie lascio insomma è per proseguire poi da questa parte con le cuciture sono arrivata a questo punto quindi il primo lato è stato cucito poi o che cosa ho fatto mi sono ho finito di lavoro qui mi sono riagganciata con il filo da questa parte ma senza staccare la catena io ho lasciato 30 maglie che sarebbe appunto il manichetto mi sono andata a riagganciare qui aspettate che ve lo faccio vedere nel dettaglio quindi continuando a tenere la catena sempre da un verso quindi tutta sistemata vedete io cosa faccio continuo a cucire nello stesso modo in cui ho fatto dall'altro lato per cui sempre andandomi a cercare le asoline e andandomi sistemando sempre la catena per essere sempre tutta da un verso come in questo caso quindi non facciamo altro che rifare la stessa cosa da questa parte ovviamente arrivata alla fine lasciamo 30 maglie quindi arrivato qui 30 maglie e la congiungiamo da quest'altra parte ci rivediamo al lavoro completato ed ecco come si presenta una volta che abbiamo finito tutti i passaggi io ho aggiunto una calamita interna così viene ben chiusa si può anche foderare ovviamente chi volesse la può tranquillamente foderare le misure finali sono 18 di larghezza alta 21 e profonda quattro centimetri spero che anche questo progetto sia stato di vostro gradimento mi raccomando se avete qualche dubbio su qualche passaggio non esitate a scrivermi condividete con le amiche e soprattutto attivate la campanella così sarete sempre aggiornate su tutte le mie novità ci vediamo alla mia prossima creazione